Lunedì di Pasquetta all'insegna del maltempo in Puglia e a Bari. In centro, da questa mattina, ristoranti e pizzerie si preparano ad accogliere i clienti. In molti, infatti, hanno approfittato del maltempo per prenotare un comodo posto a sedere e passare così una Pasquetta diversa dal solito. Come sono andate le prenotazioni, come stanno andando le cose per questo lunedì di Pasquetta? È abbastanza positivo, si lavora, si lavora. Diciamo che non possiamo lamentarci, il tempo purtroppo non è che aiuta da un certo punto di vista perché fa abbastanza freddo ma si spera nel turista e nel locale che non è andato fuori per Pasquetta. Per il resto stiamo lavorando. Abbiamo delle nostre prenotazioni e quindi andiamo avanti con la nostra clientela. Il maltempo in qualche modo ha favorito un maggior numero di prenotazioni per la giornata odierna? Anche un po' il maltempo ha contribuito a frenare un po' questa festa pasquale. Ricchi i menù nel capologo pugliese anche per questa festività, come ci hanno spiegato i titolari dei ristoranti. Abbiamo creato un menù tipo il benedetto, quello che sulle tavole dei noi baresi va per la maggiore. Abbiamo tutta roba di mare, sia dai frutti di mare ai primi con il misto mare. Come prima abbiamo i paccheri al gambero rosso, cacio e pepe con tartare di tonno, spaghettoni con le vongole e il secondo tra pesce e carne siamo abbastanza forniti.